Ho il cazzo duro Ah 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 Prova 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 Qual è il tasto per parlarti? Ah ah e i Qual è il tasto per parlare? Ah 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 prova prova Jo simulazioni no 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 Che io voglio fa? Come si gioca con le altre persone Simulazioni no No che simulazioni oh porca puttana Fermete 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 Oh 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 Che d'è Ma poi che cazzo di segnale stradale è qui Su dietro Che è un segnale stradale Di un canguro Attenzione che passa di canguri Oppure lavoro in corso Questo qua è un lavoro in corso Lavoro in corso ci sta di canguri Non capisco Mamma incinta che è Non capisco Che cazzo è sta cosa Nelle puntate precedenti Can you hear me? Yes Just shut up Let me hear the drums Occhio 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 Attention Attention man Attention No no To the left To the left To the left To the left man Can you shut up please? Ok sorry I am Matteo Cassi Streamer di Twitchi Take this idiot Motherfucker A bubazzo A bubazzo A stronzo A stronzo A figlio di puttana Mohagel Are you ready? Porco di... Pezzo di merda Porca madonna Porco di dio Ah si? Ah si? Ok Ok Questo non dovevi farlo You have making error man You don't kill me Are you ready man? Attacca a sé Un zaffone Che d'è? Quazuali Elisca Eliscalo Tore Unità Ventilazione Ma non lo so io Prendo questo La SAS Che d'è la SAS? FBI SWAT Oh bello l'FBI SWAT Scudo ballistico L'MJ1044 L'R4C Mi piace più Questa qua Non lo so Che cazzo Ne so più Quello che è Quello che mi passa Al convento Attacca S Streamer di Twitch Oggi Siamo qui presenti Per assistere All'uccisione di 4 player Ok sorry Where are you from man? British Okay Turkish Ah Turkish Okay Italy Barricate la stanza Dobbiamo proteggere Sparco Dio Oh no no bro Dove vado Uff Fuck you Ma shut up man Eat my potato You kill me In the previous game And I kill all In this game Fuck you man Bye Are you ready to die? Are you ready to die Or no Or no In the previous game All people kill me I don't play for 10 minutes I kill all men I kill all Are you understand them now? I kill all Are you ready to die Or no Come on I am Patova Cresce And you die I am coming man I am coming I am coming Fuck you Are you ready to die or my enemy Are you ready to die? Or no Porco di Porco di Porca me Porca me Porca me Porca me Porca me Yeah baby Good man You are you are very strong people Okay Sorry man for I am a streamer But don't I am not I am noob Sorry Matteo Matteo Hs on Twitch If you want to see me on my stream You are welcome Oh Hey Hello 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 Hey Fuck you Fuck you Fica de mamma Date dio Che la fregna de sorte Porca troia Occhio 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 Porco dio Eh no Help me You are my team You are Okay Okay You are my team Okay You are No 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 Enemy Okay Hello Why A few moments later Ma perché Why Ma che d'è Lo corpo De Come si chiama Lo carcio in culo No come si chiama Lo corpo di culo Quello che Pam Te rimbarza sulla faccia Cazzo fatto Perché Sorry Eh no Ma come ho fatto Non ho sentito Manco il colpo io Ma dai ma questo Era professionistico Dai guardala che mira Mi rimane un nemico Cambio caricatore La squadra d'attacco ha eliminato i difensori Buono Come on baby I am a new player But don't worry I have the Strong Strong Mazz Cazzo Dello drone assorbente Uh Che d'è qua La reggia De Sei stato individuato WTF Da chi Da chi Sono stato individuato Porca puttana Aiuto Hello Sono stato individuato Ma da chi How Ok man I go to I go to die Cazzo è per te Perché Non mi muove Third Third Another one Third Good Easy win Easy win No 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 due No 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 Grazie a tutti.